Fano è la città dei bambini dimenticati. Con queste parole l'associazione Nuova Fano torna ad occuparsi del parco dell'aeroporto inaugurato a settembre e nuovamente da sistemare. Infatti dopo un intervento avvenuto nei mesi scorsi la copertura in gomma dei giochi si è rovinata ancora una volta. Il comune ieri ha recintato l'area interessata specificando che i lavori di ripristino non potevano essere eseguiti durante l'inverno poiché le temperature di quel periodo dell'anno non sarebbero state idonee alla posa del materiale. D'altra parte però Nuova Fano critica la gestione di quell'area costata 170 mila euro che sta continuando ad andare in malora. Intanto prendiamo atto del fatto che sono state messe le transenne ieri dopo il nostro intervento quindi c'era una questione anche di responsabilità e di sicurezza. Noi ci siamo fatti portavoci perché abbiamo avuto segnalazioni dai cittadini della situazione del parco. Noi ci siamo consultati anche come Nuova Fano con dei tecnici e siamo venuti a capo di questo cioè il fatto che una gomma diciamo attaccata su una struttura interna sotto in cemento in una situazione come questa se non viene fatto poi tutto un lavoro intorno di riparazione quindi di ombra perché questo parco viene soffruito soprattutto il periodo estivo e quando i gradi sono abbastanza alti del caldo. E quindi diciamo che questo calore che si forma tra il cemento e la gomma sotto deteriora poi la gomma e quindi la gomma continuerà a rompersi. Il parco è stato oggetto anche di slogan elettorale ricorda Poligioni e visto che si tratta di soldi pubblici da cittadini e genitori pretendiamo che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte ma anche che il parco venga valorizzato per i nostri figli. Noi proponiamo che intorno a questo parco venga creata una struttura perché purtroppo alberi non ce ne sono quindi una struttura adeguata che possa essere sia di riparo per i bambini e i genitori e che serva anche per proteggere tutto quello lì che è la struttura, la messa in essere della struttura perché altrimenti secondo anche diciamo il parere tecnico che ci è stato dato continueremo a mettere toppe ad una struttura che è stata costruita con tanti soldi pubblici da poco più di un anno insomma ecco questo è il nostro intervento.